Col cappellaccio bianco buttato sulla nuca, nei cui tese parevano una spera attorno al faccione rosso come una palla di formaggio d'Olanda, Cristoforo Golisch si arrestò in mezzo alla via con le gambe aperte, un po' curve per il peso del corpo gigantesco. Lanzò le braccia e gridò Beniamino, alto quasi quanto lui ma secco e tentennante come una canna gli veniva incontro pian piano con gli occhi stranamente attoniti nella squallida faccia un uomo sui cinquant'anni appoggiato a un bastone dalla grossa ghiera di gomma, strascicava a stento la gamba sinistra. «Beniamino!» ripetè il Golisch e questa volta la voce espresse, oltre la sorpresa, il dolore di ritrovare in quello stato, dopo tanti anni, l'amico. Beniamino Lenzi batte più volte le palpebre, gli occhi gli rimasero attoniti, li passò solamente come un velo di pianto, senza però che i lineamenti del volto si scomponessero minimamente. Sotto i baffi già grigi, le labbra un po' storte, si spicciarono e lavorarono un pezzo con la lingua annodata a pronunziare qualche parola. «Oh, oh, 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 sto meo! Camio!» «Ah, bravo!» fece il Golisch, agghiacciato per l'impressione di non aver più innanzi un uomo, Beniamino Lenzi, quale egli lo aveva conosciuto. «Ma quasi un ragazzo ormai, un povero ragazzo che si dovesse pietosamente ingannare. Egli si mise accanto e si sforzò di camminare col passo a di lui. Ah, quel piede che non si spiccicava più da terra e strisciava, quasi non potesse sottrarsi a una forza che lo tirava di sotto. Cercando di dissimulare alla meglio la pena, la costernazione strana che a mano a mano lo vinceva nel vedersi accanto quell'uomo toccato dalla morte, quasi morto per metà e cangiato, cominciò a domandargli dove fosse stato tutto quel tempo e che sarei allontanato da Roma. «Che avesse fatto? Quando fosse ritornato?» Beniamino Lenzi gli rispose con parole smuzzicate, quasi inintelleggibili, che lasciarono il Golish nel dubbio che le sue domande non fossero state comprese. Solo le palpebre, abbassandosi frequentemente sugli occhi, esprimevano lo stento e la pena e pareva che volessero far perdere allo sguardo quel teso, duro, strano attonimento. Ma non ci riuscivano. La morte, passando e toccando, aveva fissato così la maschera di quell'uomo. Egli doveva aspettare con quel volto, con quegli occhi, con quell'aria di spaurita sospensione, che la ripassasse e lo ritoccasse un tantino più forte, per renderlo immobile del tutto e per sempre. «Che spasso!» fischiò tra i denti Cristoforo Golish e lanciò di qua e di là occhiatacce alla gente che si voltava e si fermava, a mirar col volto atteggiato di compassione quel povero uomo accidentato. Una sorda rabbia prese a bollirgli dentro. Come camminava svelta la gente per via. Svelta di collo, svelta di braccia, svelta di gambe. E lui stesso era padrone, lui, di tutti i suoi movimenti e si sentiva così forte. Strinsò un pugno, per Dio. Sentì come sarebbe stato poderoso a calarlo bene scolpito sulla schiena di qualcuno. Ma perché? Non sapeva. Lo irritava la gente. Lo irritavano in special modo i giovani che si voltavano a guardare i lenzi. Cavò dalla tasca un grosso fazzoletto di cotone turchino e si asciugò il sudore che gli grondava dal faccione affocato. «Beni Amino, dove vai adesso?» Il lenzi si era fermato. Aveva appoggiato la mano illesa a un lampione e pareva lo carezzasse, guardandolo amorosamente. Giacicò «Dado, dove?» «Esezio de pie!» e si trovò ad alzare il piede colpito. «Esercizio?» disse il golish. «Ti eserciti il piede?» «Pie!» ripetei il lenzi. «Bravo!» esclamò di nuovo il golish. Gli venne la tentazione di afferrargli quel piede, stringerglielo, prendere per le braccia l'amico e dargli un tremendo scrollone per scomporlo da quell'orribile immobilità. Non sapeva, non poteva vederselo davanti, ridotto in quello stato. Eccolo qua, il compagno delle antiche scapataggini, nei begli anni della gioventù e poi nelle ore d'ozio, ogni sera, scapoli come erano rimasti entrambi. Un bel giorno una nuova via sarà aperta innanzi all'amico, di quale sarà incamminato per essa. Svelto anche lui allora. «Oh! Tanto!» «Svelto e animoso!» «Sì, signore!» «Lotte, fatiche, speranze!» E poi tutto un tratto. Eccolo qua, come era ritornato. «Ah, che buffonata!» «Che buffonata!» avrebbe voluto parlargli di tante cose e non sapeva. Le domande gli s'affollavano alle labbra e gli morivano assiderate. «Ti ricordi?» avrebbe voluto dirgli delle nostre famose scommesse alla fiaschetteria toscana. E di Nadina, ti ricordi? L'ho ancora con me, sai. Tu me l'hai appioppata, birbaccione, quando partisti da Roma. Cara figliuola, quanto bene ti voleva! Ti pensa ancora, sai. Mi parla ancora di te qualche volta. Andrò a trovarla questa sera stessa e le dirò che t'ho riveduto. Poveretto. È proprio inutile che io ti domando. Tu non ricordi più nulla. Tu forse non mi riconosci più o mi riconosci appena. Mentre il Dolish pensava così, con gli occhi gonfi di lacrime, Beniamino Lenzi seguitava a guardare amorosamente il lampione e piano piano con le dita gli lavava la polvere. Quel lampione segnava per lui una delle tre tappe della passeggiata giornaliera. Strascicandosi per via, non vedeva nessuno. Non pensava a niente. Mentre la vita gli turbinava intorno, agitata da tante passioni, premuta da tante cure, egli tendeva con tutte le forze che gli erano rimaste a quel lampione prima, poi più giù alla vetrina d'un bazar che segnava la seconda tappa. E qui si tratteneva più a lungo a contemplare con gioia infantile una scimmietta di porcellana sospesa a un'altalena dai cordoncini di seta russa. La terza sosta era alla ringhiera del giardinetto in fondo alla via, dove poi si recava alla casa del medico. Nel cortile di quella casa, tra i vasi di fiori e i cassoni d'aranci, di lauro e di bambù, erano disposti parecchi attrezzi di ginnastica, tra i quali alcune pertiche elastiche, fermate orizzontalmente in cima a certi pali tozzi e solidi, pertiche da tornitore, alle cui estremità pendeva una corda, la quale, dato un giro attorno a un rocchetto, scendeva ad annodarsi a una leva di legno, fermata per un capo al suolo da una forcella. Beniamino Lenzi poneva il piede colpito su questa leva e spingeva. La pertica in alto molleggiava e brandiva, e il rocchetto, sostenuto orizzontalmente da due toppi, girava per via della corda. Ogni giorno mezz'ora di questo esercizio, e in capo a pochi mesi sarebbe guarito. Oh, non c'era alcun dubbio, guarito del tutto. Dopo aver assistito per un pezzetto a questo grazioso spettacolo, Cristoforo Golisch uscì dal cortile a gran passi, sbuffando come un cavallo, dimenando le braccia, furibondo. Pareva che la morte avesse fatto a lui, e non al povero Lenzi, lo scherzo di quella toccatina lì, al cervello. Ne era rivoltato. Con gli occhi turvi, i denti serrati, parlava tra sé e gesticolava per via, come un matto. Ah sì, diceva, ti tocco e ti lascio. Ah no no, per Dio, io non mi riduco in quello stato. Ti faccio tornare per forza io. Mi passeggi accanto e ti diverti a vedere come mi hai conciato, a vedermi strascicare un piede, a sentirmi biascicare. Mi rubi mezzo alfabeto, mi fai dire, oa, ocao, e ridi. Vieni qua, ti dio una pisto e tata, come veo Dio. Questo spasso io non te lo do. Mi sparo, ma ammazzo, come veo Dio. Questo spasso non te lo do. Tutta la sera e poi il giorno appresso, e per parecchi giorni di fila non pensò ad altro. Non parlò d'altro, a casa, per via, al caffè, alla fiaschetteria. Quasi se ne fosse fatta una fissazione. Domandava a tutti, avete veduto Beniamino Lenzi? E se qualcuno gli rispondeva di no? Colpito, morto per metà, rimbambito. Come non si ammazza? Se io fossi medico, lo ammazzerei. Per carità di prossimo, gli fanno fare il tornio nel cortile e lui crede che guarirà. Beniamino Lenzi, capite? Beniamino Lenzi, che si è battuto tre volte in duello dopo aver fatto con me la campagna del 66, ragazzotto. Per Dio, e quando mai l'abbiamo calcolata noi, questa pellaccia? La vita apprezzo per quello che ti dà. Dico bene, non ci penserei neanche due volte. Gli amici alla fischetteria alla fine non ne poterono più. Ma ammazzo, ma ammazzo. E ammazzati una buona volta e falla finita. Cristoforo Golisci si scosse, protese le mani. No, io dico, se mai. Circa un mese dopo, mentre desinava con la sorella vedova e il nipote, Cristoforo Golisci improvvisamente stravolse gli occhi, storse la bocca, quasi per uno sbadiglio mancato, e il capo gli cadde sul petto e la faccia sul piatto. Una toccatina, lieve lieve, anche lui. Perdetteli per lì la parola e mezzo lato del corpo, il destro. Cristoforo Golisci era nato in Italia da genitori tedeschi. Non era mai stato in Germania e parlava romanesco come un romano di Roma. Da un pezzo gli amici gli avevano italianizzato anche il cognome, chiamandolo Golicci, e gli intimi anche Golaccia in considerazione del ventre e del formidabile appetito. Solo con la sorella, che gli soleva di tanto in tanto scambiare qualche parola in tedesco, perché gli altri non intendessero. Ebbene, riacquistato a stento in capo a poche ore l'uso della parola, Cristoforo Golisci offrì al medico un curioso fenomeno da studiare. Non sapeva più parlare in italiano. Parlava tedesco. Contraendo gli occhi insanguati, pieni di paura, contraendo quasi in un mezzo sorriso la sola guancia sinistra e aprendo alquanto la bocca da questo lato, dopo essersi più volte provato a snodare la lingua inceppata, alzò la mano illesa verso il capo e balbettò rivolto al medico. Ir wie ein Faustschlag. Il medico non comprese. E bisogna che la sorella, mezzo estupidita dall'improvvisa sciagura, li facesse da interprete. Era divenuto tedesco a un tratto, Cristoforo Golisce, cioè un altro, perché tedesco veramente lui non era mai stato. Soffiato via, come niente, dal suo cervello ogni memoria della lingua italiana, anzi tutta quanta l'italianità sua. Il medico si provò a dare una spiegazione scientifica del fenomeno, dichiarò il male e mi plegia, prescrisse la cura. Ma la sorella, spaventata, lo chiamò in disparte e gli riferì propositi violenti manifestati dal fratello pochi giorni innanzi, avendo veduto un amico colpito da quello stesso male. «Ah, signor dottore, a un mese non parlava più d'altro. Quasi se la fosse sentita pendere sul capo la condanna. S'ammazzerà. Tiene la rivoltella lì, nel cassetto del comodino. Ho tanta paura!» Il medico sorrise pietosamente. «Non ne abbia, non ne abbia, signora mia. Mi daremo ad intendere che è stato un semplice disturbo digestivo e vedrà che... Ma che, dottore?» Assicuro che lo crederà. Nel resto il colpo, per fortuna, non è stato molto grave. Ho fiducia che tra pochi giorni riacquisterà l'uso degli arti offesi, se non bene del tutto, almeno da potersene servire pian piano e col tempo, chissà. Certo è stato per lui un terribile avviso. Bisognerà cangiare vita e tenersi a un recime scrupolosissimo per allontanare quanto più sarà possibile un nuovo assalto del male. La sorella abbassò le palpebre per chiudere e nascondere negli occhi le lacrime. Non fidandosi però dell'assicurazione del medico, appena questi andò via, concertò col figliuolo e con la serva il modo di portar via dal cassetto del comodino la rivoltella. lei e la serva si sarebbero accostate alla sponda del letto con la scusa di rialzare un tantino le materasse e nel frattempo, ma attento per carità, il ragazzo avrebbe aperto il cassetto senza far rumore e, attento, via l'arma. Così fecero. E di questa sua precauzione la sorella si rodò molto, non parendole naturale di lì a poco la facilità con cui il fratello accolse la spiegazione del male, suggerita dal medico. Disturbo digestivo. Ya, ya. Es ist doch. Da quattro giorni se lo sentiva in gombro lo stomaco. Un ferdaulichkeit. Ya, ya. Ma possibile, pensava la sorella, che gli non avverta la paralisi di mezzo lato del corpo. Possibile che egli, già prevenuto dal caso recente del Lenzi, creda che una semplice indigestione possa aver fatto un tale effetto. Fin dalla prima veglia cominciò a suggerirgli amorosamente, come a un bambino, le parole della lingua dimenticata. Gli domandò perché non parlasse più italiano. E gliela guardò imbalordito. Non si era accorto, per anche, di parlare in tedesco. Tutto un tratto gli era venuto di parlare così, ne credeva che potesse parlare altrimenti. Si provò tuttavia a ripetere le parole italiane, facendo eco alla sorella. Ma le pronunziava ora con voce cangiata e con accento straniero, proprio come un tedesco che si sforzasse di parlare italiano. Chiamava Giovannino, il nipote, Cioffaio, e il nipote, Scimunito, ne rideva, come se lo zio lo chiamasse così per scherzo. Tre giorni dopo, quando alla fiaschetteria toscana si seppe del malore improvviso del Golish, gli amici accorsi a visitarlo poterono avere un saggio pietoso di quella sua nuova lingua, ma egli non aveva appunto coscienza della curiosissima impressione che faceva parlando a quel modo. Pareva un naufrago che si arrabbattasse disperatamente per tenersi a galla, dopo essere stato tuffato e sommerso per un attimo eterno nella vita oscura, a lui ignota della gente. E da quel tutto, ecco, era balzato fuori un altro, ridivenuto bambino, a 48 anni, e straniero. E contentissimo era. Sì, perché proprio in quel giorno aveva cominciato a poter muovere appena il braccio e la mano. La gamba no ancora, ma sentiva che forse il giorno dopo, con uno sforzo, sarebbe riuscito a muovere anche quella. Ci si provava anche adesso, ci si provava. E, no, eh, non scorsevano alcun movimento gli amici. Tomai, tomai. Ma sì, domani, sicuro. A uno a uno gli amici, prima andare via, quantunque lo spettacolo offerto dal golish non desse più luogo ad alcun timore, stimarono prudente raccomandare alla sorella la sorveglianza. A un momento all'altro non si sa mai. Può darsi che la coscienza gli si rivesti. E... Ciascuno pensava ora, come già aveva pensato il golish da sano, che l'unica, cioè, era di finirsi con una pistolettata per non restare così malvivo e sotto la minaccia terribile, inovviabile, di un nuovo colpo da un momento all'altro. Ma loro sì, adesso lo pensavano. Non più il golish, però. L'allegrezza del golish, invece, quando una ventina di giorni dopo, sorretto dalla sorella e dal nipote, poteva muovere i primi passi per la camera. Gli occhi, è vero o no, senza uno specchio non se li poteva vedere, attoniti, smarriti, come quelli di Beniamino Lenzi. Ma della gamba, sì, perbacco, avrebbe potuto accorgersene bene che la strascicava a stento. Eppure, che allegrezza. Gli sentiva rinato. Aveva di nuovo tutte le meraviglie di un bambino e anche le lacrime facili, come le hanno i bambini, per ogni non nulla. Da tutti gli oggetti della camera sentiva venirsi un conforto dolcissimo, familiare non mai provato prima. E il pensiero che gli ora poteva andare coi suoi piedi fino a quegli oggetti e carezzarli con le mani lo inteneriva di gioia fino a piangerne. Guardava dall'uscio gli oggetti delle altre stanze e si struggeva dal desiderio di recarsi a carezzare anche quelli. Sì, via. Pian piano, pian piano, sorretto di qua e di là. Poi volle fare a meno del braccio del nipote e girò appoggiato alla sorella soltanto e col bastone nell'altra mano. Poi non più sorretto d'alcuno, col bastone soltanto. E finalmente volle dare una gran prova di forza. Oh, guadae, guadae, seabatoe. E davvero tenendo il bastone elevato, mosse due o tre passi, ma dovettero accorrere con una seggiola per farlo subito sedere. Gli era quasi scolata addosso tutta la carne e pareva l'ombra di se stesso, pur non di meno neanche il minimo dubbio in lui che il suo non fosse stato un disturbo digestivo. E sedendo ora di nuovo a tavola con la sorella e il nipote, condannato a bere latte invece di vino, ripeteva per la millesima volta che si era appreso una bella paura. Una bea paura, se non che la prima volta che potei uscire di casa accompagnato dalla sorella, in gran segreto manifestò a questa il desiderio d'essere condotto alla casa del medico che curava Beniamino Lenzi. Nel cortile di quella casa voleva esercitarsi il piede al tornio, anche lui. La sorella lo guardò sbigottita. Dunque gli sapeva? Dì, vuoi andarci oggi stesso? Sì, sì. Nel cortile trovarono Beniamino Lenzi già al tornio, puntuale. «Mia mio!» chiamò il golicce. Beniamino Lenzi non mostrò affatto stupore nel riveder lì l'amico, conciato come lui. Spiccicò le labbra sotto i baffi, contraendo la guancia destra. «Biacicò! Tu puoi!» e seguitò a spingere la leva, due perti che ora molleggiavano e brandivano, facendo girare i rocchetti con la corda. Il giorno dopo, Cristoforo Golish, non volendo essere da meno del Lenzi che si ricava al tornio da solo, rifiutò decisamente la scorta della sorella. Questa dapprima ordinò al figliuolo di seguire lo zio a una certa distanza, senza farsi scorgere. Poi, rassicurata, lo lasciò davvero andar solo. E ogni giorno adesso, alla stessora, i due colpiti si ritrovano per via e proseguono insieme, facendo le stesse tappe, all'ampione, prima, poi più giù, alla vetrina del bazar, a contemplare la scimmietta di porcellana sospesa all'altalena. Infine, alla linghiera del giardinetto. Oggi, intanto, a Cristoforo Golish è saltata in mente un'idea curiosa. Ed ecco, la confida al Lenzi. Tutte e due, appoggiate al fido lampione, si guardano negli occhi e si provano a sorridere, contraendo l'uno la guancia destra e l'altro la sinistra. Confabulano un pezzo, con quelle loro lingue torpide. Poi, il Golish fa segno col bastone a un vetturino ad accostarsi. Aiutati da questo, prima l'uno e poi l'altro montano in vettura e via alla casa di Nadina in piazza di Spagna. Nel vedersi innanzi quei due fantasmi ansimanti, che non si reggono in piedi dopo l'enorme sforzo della salita, la povera Nadina resta sgomenta, a bocca aperta. Non sa se debba piangere o ridere. S'affretta a sostenerli, li tracina nel salotto, li pone a sedere accanto e si mette a sgridarli aspramente della pazzia commessa, come due ragazzini discoli, sfuggiti alla sorveglianza dell'aio. Beniamino Lenzi fa il greppo e giù a piangere. Il Golish invece, con molta serietà, acciliato, le vuole spiegare che si è inteso di farle una bella sorpresa. Una bea sopea! Bellino, come parla adesso il tedescaccio? Ma sì, ma sì, grazie, dice subito Nadina. Bravi, siete stati bravi davvero tutte e due e mi avete fatto un gran piacere. Io dicevo per voi, venire fin qua, salire tutta questa scala. Su, su, Beniamino, non piangere, caro. Che cos'è? Coraggio, coraggio! E prende a carezzarlo sulle guance, con le belle mani latte e paffutelle in anellate. Che cos'è? Che cos'è? Guardami, tu non volevi venire, è vero? Ti ha condotto lui questo discolaccio, ma non farò nemmeno una carezza a lui. Tu sei il mio buon Beniamino e il mio gran la turchese. Chi me l'ha regalata? Chi l'ha regalata a Nadina sua? Ma questo mio velvecchiaccio me l'ha regalata. Tò, caro. E gli posa un bacio sulla fronte. Poi si alza di scatto e rapidamente, con le dita, si porta via le lacrime dagli occhi. Chi può soffrirvi? Cristoforo Golish, rimasto mortificato e ingrugnato, non vuole accettar nulla. Beniamino Lenzi accetta un biscottino e lo mangia accostando la bocca alla mano di Nadina, che lo tiene tra le dita e finge di non vorergli rodare, scattando con brevi risatine. No, no, no. Bellini tutte e due, adesso. Bellini tutte e due, adesso. Come ridono, come ridono a quello scherzo. Grazie. 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 Grazie.